È una sensazione strana quella che si vive stando nei corridoi quasi vuoti di questo grande istituto di Verona, il Don Bosco, in via Provolo. Oggi sono in presenza solo le classi seconde, il resto a casa e il totale degli studenti sono 520, suddivisi nei vari licei e nell'istituto tecnico informatico che fa parte dell'offerta formativa. Didattica a distanza per la maggior parte, quindi insegnanti nelle aule vuote, contabili e tpc, per proseguire comunque le lezioni. Tecnicamente è sostenibile, dice il Preside, chiaro ne risente sia la didattica che la relazione tra studenti e con l'insegnante. Abbiamo chiesto al Preside come l'hanno presi i ragazzi. Li abbiamo visti molto amareggiati, confortati perché anche loro dopo l'anno scorso, un periodo iniziale in cui poteva sembrare così un pochino più goliardica la cosa, stiamo a casa, facciamo meno lavoro, adesso li vediamo anche un po' preoccupati. Quindi ancora di più sentiamo il bisogno di stare vicino loro, di aiutarli a superare un momento di difficoltà dove cominciano a vedere qualche nube che si addensa anche sul loro futuro. Quindi dare loro un po' di coraggio, un po' di risposte positive lo riteniamo indispensabile e in linea con quello che è il progetto educativo di questa scuola. E si rimane in attesa delle prossime disposizioni che probabilmente peggioreranno la situazione con amarezza perché si è consapevoli che non sono le scuole, i focole dei nuovi contagi ma i mezzi per raggiungerli che potevano essere potenziati. Dal nostro punto di vista ovviamente questo, come dire, ci ha lasciati un pochettino nello sconforto perché abbiamo risistemato la scuola durante il periodo di chiusura, abbiamo fatto dei lavori anche per ampliare le aule, per prenderle secondo le norme, secondo i protocolli e adesso arrivare all'idea di chiudere di nuovo un pochino ci lascia sofferenti. Ecco non è la scuola che vogliamo, non è questo l'obiettivo di una scuola cattolica salesiana dove la relazione con i ragazzi va insieme all'apprendimento che viene proposto in classe.